Primo giorno ufficiale di Pescara Lucigialle 2019, una manifestazione che ha debutato due anni fa e che ha dato spazio e grande visibilità agli autori del giallo, perché il giallo è letteratura e lo è sempre di più e da sempre, oserei dire. Ma l'inaugurazione, come già nel 2017, quest'anno si svolge all'Università d'Annunzio, che è parte integrante e fondamentale di tutta la manifestazione che durerà fino al 5 maggio. Qui all'Università ci saranno, dopo il taglio del nastro, dei convegni dedicati a tutto ciò che ruota attorno al giallo dal punto di vista anche della ricerca universitaria e per, così diciamo, rompere il ghiaccio, a fianco a me il professor Carlo Martinez, che è il direttore del Dipartimento di Lingue, Cultura e Letterature Moderne dell'Università d'Annunzio. A seguire il convegno diceva, ma intanto perché l'Università aderisce a questa manifestazione? Il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne è molto contento di ospitare il convegno che si apre oggi e si inserisce all'interno di una manifestazione più ampia Pescara a luci gialle. Il convegno di oggi e domani è incentrato sulla letteratura gialla contemporanea sul successo che questo genere continua a incontrare nella letteratura di oggi. Lo scopo è quello di cercare di coniugare, da un lato, l'interesse scientifico, di ricerca, sono qui convenuti molti specialisti del genere sia italiani sia internazionali. Dall'altro allargare il discorso a un pubblico più ampio, coinvolgere alla lettura di questo genere, alla produzione di questo genere, un pubblico di non specialisti. Tra l'altro il riconoscimento di crediti formativi dimostra appunto come sia materia anche di livello universitario. Beh, come già diceva lei, sappiamo che la letteratura gialla ha conosciuto negli ultimi decenni una rivalutazione molto molto forte. Da domani pomeriggio al Museo Vittoria Colonna di Pescara fino al 5 maggio incontro con gli autori, tra gli altri Pier Nicola Silvis, Mariano Sabatini, Valerio Varesi, Roberto Costantini, Anna Lindbergh, Biagio Proietti.